Buongiorno a tutti, oggi è il 30 di novembre, l'ultimo giorno di questo mese, sono le 9.37 e torniamo di nuovo dal vivo sui mercati. Che cosa vi avevo segnalato con i video settimanali in cui do la tendenza per quanto riguarda i movimenti di medio periodo? Avevo segnalato che in ogni caso, in qualsiasi dei casi in cui ci trovavamo, avremmo continuato a scendere e esattamente come la scorsa settimana sarebbero stati i rimbalzi del gatto morto, si chiamano in gergo tecnico. Fa ridere, povero gattino, però si chiamano così. Che cosa sta succedendo? Ieri abbiamo provato a salire su DAX, non siamo riusciti in una seconda volta a superare il massimo principale, abbiamo quindi avuto una forma di ciclo ribassista, eventualmente neutra, non abbiamo superato la media mobile a 50 periodi in rosso, neanche l'acumo, siamo precipitati giù. Come vedrete da un video, lo short è stato preso qua, nel gruppo premium. I trader, se volevano rimanere in posizione, esattamente come è successo quando avevo dato lo short qua, si stanno continuamente leccando i baffi, se vogliamo tornare alla metafora del gatto. Per cui, oggi che cosa facciamo? Come di consueto, andiamo a vedere i tempi ciclici e gli swing. Prima di tutto, il nostro terzo ciclo giornaliero è arrivato a 37 barre, quindi può ancora provare un affondo fino alle 10.45. Poi proverà a fare una salita. Se dovesse andare a chiudere questo gap down, e vi ho già fatto notare il gap down di fuga, 1, 2 e sono 3, quindi discesa, esattamente come si diceva la scorsa settimana, nonostante il raccordo precedente. Tutto corretto, aspetteremo un rimbalzo e valuteremo che cosa? Ve lo devo dire, valuteremo quello che sapete, facendo sempre attenzione a che manca una cosa fondamentale, ovvero manca una chiusura di settimanale inverso, che avviene come? Con un rialzo forte, che vincola un t-3 inverso, qualsiasi, a ribasso, ovvero si parte da un massimo e si sale sopra quel massimo, perché l'inverso fa al contrario dei cicli a n, o a w, come volete chiamarvi, fa dei cicli a u, quindi se deve essere ribassista si deve andare sopra il massimo di partenza. Quindi attenzione perché questa non è una cosa da sottovalutare. Qui non c'è stata, qui non c'è stata, al sesto non c'è stata, una risalita forte, dovremmo averla per avere uno di questi cicli e poi riprendere a scendere. Sarà il rimbalzo che eventualmente farà partire qualche cosa di nuovo sul t settimanale, ovvero eventualmente il secondo ciclo a quattro giorni, il t-1. Vedete, con la ciclica possiamo già programmare in anticipo ciò che si può aspettare durante tutte le negoziazioni e se non ci sono cose che non stanno andando bene, ovvero se non notiamo delle robe strane, e come le notiamo? Attraverso le violazioni di swing. Col controllo sugli swing sappiamo che cosa può succedere. Qui è stato violato questo swing? No. Abbiamo dato vita a un nuovo t-1 che poteva rimbalzare di più? No. Abbiamo continuato a scendere. Ecco perché qui abbiamo preso lo short ieri. E ve ne darò una documentazione in un prossimo video in cui parlo di che cosa facciamo nel premium. Formazione operativa. Si guadagna e si investe per imparare, ma si guadagna mentre si impara. Una roba anomala, diciamo. Per cui, programma per oggi, attesa di rialzo, vediamo se si torna sopra uno dei massimi del nostro t-1 inverso e lì caricare le munizioni a ribasso. Per quanto riguarda l'italiano, l'indice Fuzzi MIB, il MIB, anche in questo caso abbiamo innanzitutto violato uno swing molto interessante che ho già dato al gruppo premium. Poi siamo arrivati a 37 barre su massimo, come al solito, 44, quindi andiamo a vedere quante barre ci mancano per avere eventualmente ancora un minimo dal quale andare a rimbalzare. Fino alle 11 e un quarto possiamo aspettarci tentativi di ribasso sotto questi due minimi per andare poi eventualmente appunto a fare una ripartenza. In questo caso abbiamo un ciclo inverso ribassista. Sì, eccolo qua. Uno e due. Qui abbiamo fatto 25 barre. Possiamo aver chiuso il settimanale lì sopra. Qui possiamo essere partiti. Da qui può, per ora non l'ho segnato, perché non abbiamo avuto la violazione, anzi, non abbiamo il tempo, lo swing l'abbiamo sicuramente violato. Da qui può essere partito il nuovo settimanale inverso. Il nuovo settimanale inverso, prima di risalire per chiudere, e per chiudere anche un di settimanale inverso, scende. Scende parecchio. Esattamente come detto nell'analisi settimanale. Anche perché, ecco, ho lasciato i simboli in modo che fosse più semplice come cosa, qui il target di base è il raggiungimento di questi 25.392 entro il tempo che sappiamo. Quanto dura al minimo un T settimanale? Dura sei giorni. Quindi, domani si potrebbe andare a toccare eventualmente il minimo e vedere se c'è la forza per rimbalzare. Rimbalzare per far partire un T-1, ovvero un ciclo 4 giorni, rimbalzare per, ma questo è il minimo di durata. Se volessero durare 11 giorni andremo ancora più sotto, e qui bisognerà iniziare a fare tanta attenzione, perché se andremo già in violazione di questo minimo, rischeremo già di andare quasi in chiusura di biennale. Quindi, attenzione ragazzi. D'accordo? Per quello abbiamo fatto anche il discorso della sfida di Natale, per capire che cosa poteva succedere nel tempo. Più abbiamo dati, più posso raccontarvi che cosa può succedere. In questo momento la vedo un po' fosco per il rally di Natale. Facciamo che forse, se tutto va bene, ci potrebbe essere un recupero di Natale. Ok? Altre cose in particolare, penso di non doverne dire, come al solito i livelli dell'algoritmo verranno messi all'interno del gruppo premium. Lo vedrete nel prossimo video. Se siete interessati, come al solito, dateci un'occhiata. Vi auguro una splendida giornata. La mia so già che sarà veramente splendida, perché la passerò per buona parte nella società di investimenti di cui vi ho già accennato in vari altri video. Imparerò tante cose. Conoscerò altre persone meglio. Vedrò altre tecniche di investimento, anche su portafogli da milioni di euro. E quindi non posso che essere felice e che avere una bella luce negli occhi. Auguro a tutti una splendida giornata. Arrivederci.